La graziosa cittadina di Le Croisic è fin dal Medioevo il maggior porto per l'esportazione del sale ed ogni scalo specializzato nella distribuzione di ostriche e frutti di mare. Grazie per la visione! Nelle vicinanze di Le Croisic le coste frastagliate della Côte Sauvage raggiungono il massimo della propria espressione bellezza naturalistica. A caratterizzare la Boll, centro turistico di vacanza fra i più eleganti e rinomati della costa atlantica, sono gli stili regionali rivisitati, i villini provenzali, cotte e gianglo normani e le architetture che richiamano la tradizione bretona. Grazie a tutti!